Ciao! Per me essere dona vuol dire responsabile, sensibile, prendere vita in mano con delicatezza. Essere calciatrice per me vuol dire avere anche responsabilità, avere un stile di vita sano, essere consapevole che questo è il tuo lavoro, è la tua passione, fare tutto insieme e goderti la vita come è. La mia idea di bellezza è sorridere la vita, essere positivi e solari sempre. Il prodotto di bellezza che non mi può mancare mai è ovviamente il mio profumo. Grazie a tutti!